bello a tutti ragazzi sono io shawkin01 questo è il mio prossimo video di pokemon gc online e lo vi saluto ciao ciao poi le ferre e manager vizio vizio gcm ok 10 pacchetti si via si si parto subito dal primo pacchetto primo pacchetto oh vedi che trovo eh cazzo quella qua è bello cazzo uno ti vuole sfidare sarà è scritto io lo so cazzo cazzo vabbè almeno giocarbi vabbè abbiamo capito che non troverai niente abbiamo capito cazzo 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 io avrei gridato cazzo 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 bella per ora non cazzo cazzo Del Fox Che dici ce la facciamo una battaglia Uh bello Che dici dopo ce la facciamo una battaglia Oltre allo spaccacamento Vabbè ragazzi lascio Kaiser Eh tranne Mega Lagazzano Del Fox pure Hai Mega Turbo Del Fox Fatti subito il deck Fai il culo con Turbo Del Fox C'è ragazzi ha pure Ha pure Ho Full Art Che dici lo scambio uno Per i pacchetti Che dici lo scambio Lo scambiamo subito ora Così facciamo questi pacchetti Vai dai Vabbè dai Però rapidamente perché già sono un po' di minuti Chi lo vuole Chi lo vuole? Facciamo una cosa Dici più Lo scambio unico non devi studiare ah si deve andare a scuola a scuola non c'è che pizzi mi si capisce che si possa fare un tubacolo c'è cazam con la cacca no l'altro vabbè meglio questo io scambio questo meglio tenersi full art comunque non lo scambiare mai nella vita del fox turbo che si può fare il deck ah la cazam devi scrivere ah i pacchetti va a parire attenzione domini crea un'offerta e qui vi lo temerolo oi 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 la c'è